Qual di essere unionista Gidio Bicchierai, ormai abbiamo parlato già con altri protagonisti, prestazioni convincente da parte del Grosseto? Sì, sì, prestazioni convincente. Credo il merito grosso è che viene dopo altre prestazioni importanti, ancora di più. E' chiaro, siamo contenti. Io mi ripeto che c'è da continuare, domenica si va a Montevarchi e credo è un grosso banco di prova perché fuori casa credo sia una delle squadre più difficili da affrontare. Con il cambio dell'allenatore stanno facendo bene da 7-8 domenica, quindi sarà un grosso banco di prova. Grosseto però che ha denotato e sta continuando a denotare continuità, convinzione, una crescita importante nei singoli e nella squadra proprio. Sì, sì, sia nei singoli che nella convinzione, nella personalità con cui si va a affrontare le partite. C'è stato sicuramente un progressivo aumento di tutte queste doti che si è detto. Però bisogna anche, io continuo a star copiati per terra perché c'è ancora da giocare tanto, però se si continua così ci si diverte anche a vedere le partite. Sì, 4-40 a questo punto è a 8 punti, prima uno arriva e poi il resto è divertimento. Sì, credo che sono parole povere che dia un po' però il calcio mi hanno insegnato che bisogna stare tranquilli. Questa squadra viene a stare tranquilla. È chiaro, con obiettivi che man mano cambiano domenica per domenica, perché se si continuano a fare tre punti per domenica, credo che gli obiettivi possono cambiare. Ma finché non si è fatto altri punti, è bene noi stare copiati per terra. Lo ripeto, non è tanto per parlare, perché se no non è stare via, andare via. Ma è proprio il tipo di squadra che abbiamo e che bisogna... Non è la squadra dell'anno scorso. Io l'anno scorso mi prendevo le mie tranquillamente responsabilità, ho detto tante volte che quest'anno si deve vincere il campionato, non sono tanti problemi. Quest'anno no, quest'anno se si vince qualche altra partita, si vince play-off, si vince il campionato, si vince perché siamo bravi, ma senza nessuna pressione da parte di alcuno. Perché gli obiettivi erano altri, però io lo ripeto, a giocare a me oggi e continuare a vincere ci si diverte, quindi credo sia bello per tutti divertirsi. Grazie mille. Grazie a voi, buonasera.